Da oggi la Regione Calabria avrà un nuovo statuto che prevede l'aumento degli assessori dai 6 a 7, di cui almeno il 30% donne. La possibilità che questi siano anche tutti esterni al Consiglio, finora gli esterni, non potevano essere più di tre, è la figura del consigliere delegato. Il governatore calabrese Mario Liverio oggi lo promulgherà con un decreto che nei tempi tecnici sarà pubblicato sul BURC. Verificherà poi con dei costruzionalisti se il nuovo testo potrà entrare in vigore con dichiarazioni d'urgenza o se dovranno passare 15 giorni dalla sua pubblicazione. Nell'uno o nell'altro caso, entro mercoledì, il Presidente della Regione Calabria è intenzionato a presentare ufficialmente la nuova giunta in conferenza stampa, formalizzandola eventualmente dopo i 15 giorni prescritti. Slitta dunque, di un paio di giorni, la chiusura del cerchio annunciata per oggi. Il fatto è che oggi il Governatore, stando ai rumors più accreditati, si aspetta che il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Scalzo, convochi l'Assemblea di Palazzo Campanella con all'ordine del giorno le sue dimissioni. Questo l'impegno che Scalzo avrebbe assunto con Guerini e Magorno dalle dimissioni di Scalzo, discendono infatti quelli di Ciconte e Guccione. A quanto pare, se Scalzo si irrigidisce, la situazione potrebbe radicalmente cambiare con ripercussioni anche nella scelta dei nuovi assessori. Ecco perché Mario Liverio sta ancora lavorando alla rossa dei nomi che comprende al momento, Antonio Viscomi, Gianni Speranza, Charletta, Peppe Corigliano e Maria Francesca Corigliano e la New Entry, Adriana Musella.